Presidente Natale, approvato il rendiconto, c'è stata anche l'approvazione del regolamento interno, insomma comincia pian piano l'attività di questa nuova provincia, nuova da tanti punti di vista soprattutto istituzionali, di veste giuridiche. Oggi era la prima assemblea dei sindaci che è un nuovo organo previsto dalla normativa che ha modificato l'ente provincia, era un incontro, un esperimento, una cosa nuova per tutti noi sia come amministratori provinciali che come sindaci. Direi che è andata bene, nel senso che le due cose all'ordine del giorno, che hanno un regolamento provvisore per poter comunque disciplinare il funzionamento di questo organo e il parere in ordine allo schema di bilancio consuntivo, sono stati approvati a stragrande maggioranza, non c'è stato nessun voto contrario, c'è stato qualche astenuto. Quindi complessivamente l'assemblea dei sindaci ha risposto alle presenze, anche questo è un dato che vorrei sottolineare, dei colleghi sindaci sono stati molto numerosi. Ecco, ci sono anche delle funzioni che passano nella regione, ora ormai sappiamo finalmente quali sono, mi pare siano cinque queste funzioni, giusto ce le può dire? Sì, allora, le funzioni che passeranno nella regione a far data dal primo di luglio, quindi diciamo, parliamo di pochi giorni, saranno la formazione professionale, caccia e pesca, la difesa del suolo e il turismo. Sì, poi vi sono altre funzioni in bilico, parliamo del discorso della polizia provinciale, parliamo del discorso dei centri per l'impiego, il cui futuro non è ancora ben definito, se ci sarà un passaggio a regione, un passaggio allo Stato, è una fase in divenire. Unitamente a questo passaggio di funzioni ci sarà il passaggio del personale, noi nella prima fase, nei primi 20 giorni di mandato abbiamo incalzato regione, diciamo, usiamo questo termine che forse è quello più opportuno, con determinazione per ottenere, diciamo, un congruo numero di passaggio di personale con le funzioni, perché se una funzione passa alla regione, il personale che svolge quella funzione deve passare all'ente. E diciamo, con una delibera di giunta del 29 di maggio, quindi in limine, è stato, diciamo, approvato appunto dalla giunta regionale il passaggio anche di un quantitativo di 46 più 10 lavoratori a tempo indeterminato, più 11 precari, che andranno a svolgere appunto queste funzioni. Adesso ci sarà da, diciamo, da portare avanti questo discorso da un punto di vista amministrativo, con il nuovo ente, con nuova amministrazione, ma siamo fiduciosi che, diciamo, questo step possa essere superato. Le perplessità più grosse in questo momento le abbiamo per quanto riguarda il futuro, per quanto riguarda quindi il preventivo che dovrà essere realizzato a breve, perché abbiamo delle notizie non positive per quanto riguarda i tagli da parte dello Stato. Quindi siamo in attesa di avere dei numeri più precisi e poi potremo essere più precisi anche noi.